Allora, Fabio Baccaloni sarà il primo intervento, Fabio vive a Tolentino, inizia il suo percorso artistico nel 1997 specializzandosi inizialmente nel teatro di parola. Negli anni lavora sia come attore ma soprattutto come danzatore e performer in varie produzioni e artista associato della compagnia Simona Bucci, compagnia degli Stanti di Firenze. Prego Fabio. Buon pomeriggio a tutti, volevo innanzitutto ringraziare Antonio per l'opportunità che comunque crea ogni volta e anche a tutta l'organizzazione dell'Hangard Fest molto attenta e sensibile nei riguardi di noi artisti, perché anche questo è un appuntamento importante per far sentire la nostra voce e per farci comunicare il nostro disagio, perlomeno il mio. In questo periodo gli artisti non solo a livello sociale non vengono mai riconosciuti, ma sono un po' mistrattrati, quindi non esistiamo, non siamo nulla e c'è una manifestazione adesso che si sta svolgendo in diverse piazze d'Italia per comunque comparire e farci vedere. Perché comunque l'artista nella società è quello che tira un po' le somme, quello che fa da specchio dei malesseri, quello che fa vedere i lati anche più oscuri, ma questo già dall'inizio, da quando è nata l'arte con l'uomo. Quindi c'è un contatto, ci deve essere un contatto e gli artisti, l'artista, perlomeno io adesso parlo in prima persona, io ho bisogno del contatto, quello che c'è stato assolutamente vietato giustamente per un'emergenza sanitaria, ma il contatto è quello che unisce l'artista al pubblico, alla società, è quello da cui io traggo ispirazione, quello da cui io mi rigenera, perché comunque dal contatto nasce sempre qualcosa, questo distanziamento sociale in cui ti trovi molto spesso a fare anche delle lezioni, a fare dei laboratori, mi è capitato in questo periodo, è un modo che secondo me non rappresenta il teatro, non può essere questo il nostro futuro, bisogna trovare sicuramente delle alternative, però ci deve essere comunque un rapporto diretto nello stesso spazio, perché c'è comunicazione, quella se ne è sempre parlato tanto negli anni in cui internet, i social media comunque distruggono il rapporto e la società comunque è diversa, diventa strana attraverso il computer. Io me ne sto accorgendo adesso, perché comunque tutto quello che si crea a livello artistico attraverso un computer non è teatro, il teatro vive in uno spazio condiviso, comune, in cui il danzatore esprime attraverso non uno schermo, ma attraverso il sudore, la fatica, il muscolo che si tende, è vita, non è semplicemente uno schermo in cui io se voglio spengo, quella è televisione, quello con tutto il rispetto è cinema, non può essere, non è il teatro, non è danza, non è teatro, non è questo. Quando ho iniziato la mia passione è nata perché c'era una forte unione tra tutti i membri del cast, cioè tutti noi eravamo un unico respiro, eravamo un'unica forza su un palco per comunicare qualcosa ad un pubblico presente, in scena, perché comunque il pubblico non è solo quello che ti fa l'applauso alla fine. È un membro fondante, quando insegno lo dico, cioè il teatro se il pubblico sbadiglia te lo vedi, lo senti, molto spesso ci accorgiamo se in scena, quando siamo in scena, se qualcuno tra il pubblico ha un cellulare acceso, sentiamo i respiri, sentiamo i colpi di tosse, questo non può avvenire attraverso uno schermo e non può avvenire nemmeno la creazione, perché mi sono trovato con la mia compagnia, perché comunque i progetti comunque si stanno ancora portando avanti e creando, quindi ci sentiamo spesso, si scambiano idee, ci mandiamo materiali, si legge, si studia, però a un certo punto avremmo bisogno di ritrovarci in una sala prove, perché ho la necessità, io ho la necessità come artista e come essere umano del contatto, ecco, questa è quella, la cosa che probabilmente sia la società mi ha ridato, sia io stesso sento, quindi il potentissimo sarebbe adesso vedere uno spettacolo di corpi ammucchiati, perché è quello che non si può fare, perché è quello di cui abbiamo forse bisogno di vedere, perché vederlo adesso scuote, quando incontro qualcuno e mi tocca una spalla, adesso c'è questo timore, c'è stato questo distanziamento, però mi rendo conto che non può essere questo il futuro, cioè troveremo sicuramente modi, stiamo pensando da soli, stiamo pensando a duetti a distanza, però nel tempo abbiamo visto tante limitazioni noi artisti, ci siamo abituati a lavorare in una settimana, ci siamo abituati a lavorare in spazi alternativi, senza tappeto, sono state integrate tantissime possibilità da queste grandi limitazioni, ci troviamo ora a doverci limitare anche nel contatto, quindi dovremo andare in scena e non toccarci, quindi ci abitueremo anche a questo, ma non so quanto potrà durare quanto questo fondamentale elemento che è il contatto, che è lo scambio diretto, non mediato da niente, possa però alla fine creare un impoverimento troppo grande. Fabio, scusami, ci sono passati cinque minuti. Vai, vai, sì sì, perfetto. Fattuta? Sì sì, no, ma più o meno era quello che volevo dire, era proprio una necessità mia di esprimere questa mancanza che è della società, ma è artistica, perché comunque ci troveremo a lavorare in scena, anche nei futuri lavori già programmati per agosto, ci sono alcune cose in cui dovremo stare a distanza e non toccarci, va bene, però quanto durerà? Non lo so, è una domanda che mi faccio e che ridò agli altri se hanno una loro visione che mi possa un po' consolare, ecco. Grazie, grazie mille Fabio. A voi.